Fernando Tonello Alimentandomi di queste piante perché le prime piante che in Piemonte nascevano una volta non c'era la possibilità di andare in negozio a comprare sia la verdura che la frutta per cui si adoperavano le prime piante che nascevano per questo che si passava dalle piante ai fiori e il lupolo selvatico era tra le prime che nascevano poi il tarassaco è di nuovo una pianta di grandissimo uso perché del tarassaco oltretutto è una pianta medicinale e poi dopo si andava dietro a tutte le altre piante in base alla stagionalità per cui mi è rimasta un po' questa cosa che fa parte delle tradizioni mie piemontesi però il lupolo selvatico lo troviamo fino sul mare lo troviamo perché cresce lungo i ruscelli e come anche il tarassaco se noi vediamo nei nostri giardini per andare all'autostrada nei giardini pubblici c'è pieno di tarassaco quei fiori gialli che sono i primi che escono di primavera quindi insomma è una passione che fa vedere in altro modo quello che magari a tanti passi inosservato a questo punto sicuramente perché oltretutto in questa maniera si mangia sanno si mangia delle cose che non sono state contaminate in nessun genere perché? perché non si ci dà letame, anzi se uno si permette di dare letame queste piante qua seccano perché sono abituate a mangiare a prenderle come le offre la natura come sono loro Tonino Di Domenico è il presidente del gruppo micologico d'Imperia e avete fatto un po' scuola qui oggi nel senso che è una cena particolare perché prima c'è questa spiegazione sulle piante abbiamo visto anche dei marzuoli quindi dei funghi abbastanza rari, difficili da trovare tutto questo per arrivare poi a gustare quello che si è visto, che si è studiato possiamo dire sì, una serata veramente particolare la nostra e l'abbiamo fatta in collaborazione appunto con Fernando che è titolare di questo ristorante molto esperto in funghi ma anche per la sua conoscenza delle erbe spontanee e commestibili e allora noi ci siamo detti ma in realtà nel bosco dove noi siamo i tutori diciamo del bosco siamo amici della natura, il nostro gruppo si chiama gruppo micologico d'Imperia, amici della natura quindi oltre al divulgare la conoscenza della micologia onde evitare poi tutte quelle sgradevole situazioni che si vengono a creare con la tossicità e quindi gli avvelenamenti provocati proprio dai funghi noi abbiamo voluto anche far vedere che nella natura ci sono anche molte altre cose che la natura stessa ci offre gratuitamente come le erbe spontanee e commestibili ce ne sono veramente tantissime e questa sera abbiamo voluto appunto dimostrare che attraverso questa iniziativa noi possiamo dimostrare che ci sono tantissime erbe ma anche tantissimi funghi che si possono gustare attraverso proprio la collaborazione di questo ristorante che proprio fa dei suoi piatti la tipicità di questi prodotti grazie